Buongiorno, è februari 11, 2022, anche se è un pomeriggio direi perché è l'una, 5, a clear morning, very still right now, mister, master, maestro, oh semplicemente, oh semplicemente, David Lynch, and if he. We can believe it, it's a Friday once again, it's a Friday once again, here in Naples abbiamo avuto, we had, perché adesso praticamente sono le 7 meno 10, scusate se lo faccio così tardi, poi questa seconda parte, ma non ho avuto il tempo, anyway, we had a clear morning and very still right now, è stata realmente calma, e we had 60 and 8 Fahrenheit and around 60 in Celsius, e quindi faceva per me, non era quella giornata veramente, veramente, veramente fredda, come in questi giorni, in questo periodo, ovviamente sempre per me che il freddo non lo soffro come le altre persone, infatti in questo senso invito sempre a vedere il mio video sul freddo che ho fatto a dicembre praticamente, per capire quali sono le 2 freddo che utilizzo e cercare non di vincerlo, perché è possibile, ma quantomeno di combattere il freddo. Sì eh, it's a Friday once again, and a Saturday Friday, come avrete notato, I shaved my beard once again with this fantastic electric, blue, black and grey, this all, only 8 euros, very cheap, very oggi Marzullo è condotta su questo primo canale italiano, il canale più importante in Italia, comunque il primo canale, e sì, come sto ripetendo in questi venerdì, se allora ormai riuscissi metterò un video con uno spezzone in cui lui pronuncia la sua frase calta in questo programma, anzi la pronuncia stesso io adesso, perché non credo di riuscirlo a caricare ad ogni modo, lui dice, il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà, tantissima verità. E poi anche un'altra frase molto interessante, un altro suo programma, che si chiama sottovoce, e in questo programma pronuncia spesso questa frase, c'è sempre, e questa frase fa sottovoce, per dire sottovoce quello che gli altri vorrebbero imporci, forse, gridando, sì, veramente due massime capitali, secondo me, ma Gigi Marzullo è veramente un grande personaggio, bisogna conoscere. Per quanto riguarda il video sui pensieri, non credo che lo faccia separato, perché ho poco da dire, spero che vi siate fatti due risate col video sul sosian, sul presunto sosian di Gordon Cole o di Mr. Lynch, e poi pensavo al ventiquattresimo episodio della serie musicale sui self-frati-wancy games e del maestro che dovrei caricare tra qualche ora, con questo mio nuovo motivo, il terzo motivo che ho creato due settimane fa, in questa versione fast rock. Sì, anyway, non posso saporire ovviamente alla finestra, perché per me è seria, però mostrerò un frammento che ho fatto, che ho firmato oggi pomeriggio. We had, we had those beautiful blue skies in golden sunshine, all along the way ovviamente, l'abbiamo avuto, bene così, quarto giorno consecutivo, bene così, l'abbiamo, che l'ha che l'abbiamo, in questi casi che dire. S vede un po' di meno perché seria, ma comunque sublime oggi, che non ha da dire. e questo è.... GRIETE rilassurgo sì, e io nel top o nel shot E finalmente, da mio mitico keyboard Yamaha DGX640, IPG, IPG625 Have a great day in all the people who follow the channel and the reports, sì un saluto veramente a tutti. Per quanto riguarda la musica, è sempre la mia, ovviamente inserisco sempre titolo la descrizione, se siete interessati dovrebbe essere un montaggio from Twin Peaks, Firewalk with me, o Krug Dance, set up Twin Peaks, Gangelo Badalamenti, so again have a great day in all these people and everyone too.